La Sicilia e la Tunisia, divise geograficamente ma riunite graficamente nel lavoro del giovanissimo studente modicano Francesco Minardo, formano in maniera stilizzata il logo che rappresenterà il progetto strategico transfrontaliero MIAREM, metodologie innovative e misure di rafforzamento per la protezione dell'ambiente mediterraneo. La scelta del logo è avvenuta tramite un contest tra una scuola siciliana e una tunisina, al quale hanno partecipato numerosi studenti che si sono così potuti mettere in relazione con un vero lavoro. Alla fine è stato scelto il lavoro di Minardo, studente dell'Istituto Archimede di Modinca, un appuntamento che ha visto i ragazzi come veri protagonisti in prima linea all'interno del progetto nato dalla cooperazione transfrontaliera tra Sicilia e Tunisia, con l'obiettivo di trasferire la conoscenza tecnologica finalizzata al ripristino ambientale di parti degradate dei fondali marini, in particolare di una superficie di mille metri quadri di fondale degradato mediante il reimpianto di posidonia oceanica e la posa di opere di protezione dell'habitat e di alterazione per le principali specie ittiche. Scelto come progetto vincitore il lavoro firmato da Francesco Minardo, che con un abile intervento di destrutturazione dei confini geografici della Tunisia e della Sicilia è riuscito a riassumere graficamente le tematiche centrali del progetto. Il logo nasce dall'unione della Tunisia e della Sicilia, quindi questa unione che non esiste geograficamente ma che ho voluto rappresentare in un logo molto stilizzato per riuscire a unificare questi due territori. Abbiamo colto questa opportunità per i ragazzi per simulare un convittente reale e hanno messo tutto l'impegno e tutto il loro estero creativo per poter realizzare questo e ci siamo riusciti. Molti lavori veramente ben fatti, una rappresentazione grafica di quello che è il progetto che rappresenta a pieno le tematiche del progetto stesso, un progetto di cooperazione trasfrontaliera, un progetto che rappresenti la Sicilia, che rappresenti la Tunisia, che rappresenti l'ambiente e il mare. Grazie.